e allora adesso possiamo salutare facendo un applauso, grazie incredibile, ha avuto, ha tenuto diari dagli inizi, dai 15-16 anni fino alla sua morte praticamente ha incontrato Quasimodo che le ha rivoluzionato la vita, ecco, lei era già pronta a un incontro di questo tipo, non è che lui sia stato il pigmalione che l'ha cresciuta, no, lei aveva tutto un mondo, si sono conosciuti in un salotto Buonasera a tutti Allora Giulio, noi abbiamo avuto modo di confrontarci in queste ultime settimane sul valore della della poesia contemporanea, avevi anche coniato quella bellissima definizione Sezione 6, romanzo Adesso Ciao Grazie a tutti.